guarda che brutta sta puttana come cazzo Pasqua è veramente un cesso tiè qua voglio proprio vedere voglio proprio vedere se fa la carina qualche minuto voglio proprio vedere oh dai no 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 dai 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 sta cazzo di connessione di merda chi è che doveva pagare la bolletta? quel coglione di Luigi la ricevuta la ricevuta non ti da pensare male eh? ho la ricevuta dai via la ricevuta e mo come fa? come fa? chiamaci tecnico tecnico ma io non mi ricordo il numero dove cazzo lo trovo? su internet no? raga cercate la bolletta si e non c'è la connessione proprio durante la maratona dei Twin Peaks ma vaffanculo va quella succhia cazzi che sa che sta combina manca la connessione io senza porno sono un uomo finito un uomo finito si ma che cosa vuol dire dobbiamo aspettare il tecnico? aspettare? ma come faccio ad aspettare senza 4chan? non sono ah non sono cazzo i suoi io esco dove vai? esco vado a un internet point un internet point? un internet point si come lo troveresti un internet point senza Google Max? come lo trovo? lo chiedo alla gente chiedo alla gente qua la gente? la gente? la gente? come gli antichi? come gli antichi? la quale? la gente? la gente è cattiva la gente è cattiva la gente è cattiva ok oh oh Ma ti pare che devo tornare a usare l'immaginazione? Ma che ho 12 anni io? L'immaginazione Rò appena avanti Sono nervosa, bisogna di fare un po' Chi ha ucciso Laura Palmer? Chi l'ha uccisa? Chi l'ha uccisa? Magari la cinese figa? Chissà che starà a far cuorcezza a pedali Cazzo, 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 cazzo Regalata, non è possibile andare avanti così, non è più possibile E lo dici a me? Io da stamattina che sto chiuso con Twin Peaks e ora che faccio? Sì, io ci lavoro con internet, non è che sto a fare ste cazzate, capito? E da quando ho fatto le pippe in lavoro? Dario Tu lo sai che ho ucciso Laura Palmer? Non t'azzardare, non ci provare No, stanno a vinta serie Pino parli di Brain in Bad? Beh, a un certo punto vuol te lo fare E Friends? Beh, alla fine Rossi e Rachel È morto È morto Oh, regà, oh, cazzo male, regà L'avete sentito? L'avete sentito? Cosa? L'avete sentito anche voi Regà, questo è un iPhone È un iPhone? È un iPhone? È una speranza Dove sei? Dove sei? Dove sei? Che ti santo? Regà, non c'è un cazzo Geniale È anche l'applicazione dell'iPhone Possiamo farlo con un'applicazione dell'iPhone? Dammi un attimo una pistola Dario, basta 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 Con l'iPhone Con l'iPhone C'è l'applicazione Trinocchi Basta SACRAMELLE E adesso sono Sì Ah Non v selling Adumat referral Adumat 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 No Aduma Adumat Grazie.